Ma benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale ragazzi Oggi siamo qui per giocare a Rocket League ragazzi Un gioco assurdo, un gioco spopolatissimo in tutto il web Oggi ragazzi saluto precisamente Thomas Ciao Thomas, come stai? Ci vediamo domani a scuola Per gli altri ragazzi, se volete risalutarti da me in un video oltre che i miei compagni di classe Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Ok ragazzi Siamo in partita Gol Raga, parte la partita, subito gol, attenzione Molto arrabbiato Con la fennec dorata Più gang di così non può essere Cioè ragazzi più risocco bollo Pum No raga no, no, no Mamma mia Addirittura stava per farci altro gol Mamma mia Oh raga, triplato male Triplato male raga Triplato male 2 a 0 raga Niente Questa partita la stiamo dominando Niente Niente raga Cosa posso dire? Stiamo vincendo Come Come previsto Niente raga Triplato male Che bella la vita Raga Onestamente Non so più cosa Onestamente Posso dire Solo sono Siamo fortissimi Perché siamo 4 a 0 Non è passato neanche un minuto Raga Ma che cos'è? E che cos'è? Raga Eh raga Qua sì Qua me lo sono beccato Raga Questo qua me lo sono beccato Guardate Ci guardate di quanto poco Sono andato troppo avanti raga Eh È inutile raga Sono andato troppo avanti Colpa mia Colpa mia Va bene Un minuto Siamo 4 a 0 C'è 4 a 1 Scusate che poi c'è l'avversario Che mi abbraccia Non ho detto 0 Sono a 1 4 a 1 Vabbè Ora possiamo dire 5 a 1 Raga Non è mai capitato che Bel tiro Ah grazie Sei proprio Sei proprio Proprio Come dire Sei proprio No Sei proprio Non so come dire raga È proprio 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 No Sì Oh No 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 Non ti preoccupare Non ti preoccupare Raga Che se non importe No Però no Allora Se no Però è un po' sì Perché sì No Cioè no No Cioè no È un po' sì Perché sì Sì Sono anche no No Non è vero raga Che sì Sono io Che dico no Guarda Sono io Che faccio Le parate del genere Lo fanno tutti No 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 Perché Perché la mia macchina è così Ho capito che è la fene Che raga Posso capire Ma C'è bo C'è bo C'è bo C'è bo C'è mi No Mi dissocio No Mi dissocio Mi dissocio Sai A Natale A Natale Puoi Mi dissociarti Sempre E quando Puoi Raga Non posso farmi Ricoperare Da quattro Da sei A due Che Nado Che Nado Mi Si gioca ancora Facendo Cos'è Oddio raga Oddio 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 Ragazzi C'è tipo raga L'ho Pinciato Pum L'ho Pinciato C'è Troppo Forti No 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 Ti prego Ti prego Ti prego No Perché Perché provo Ste robe Contro Un Babbo Raga Non posso Perdere Raga Davvero Cioè Se perdo Da sette A Ce ne so Da sette A tre Perché Rago Vado Perché Devo Ragazzi Oddio 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 E' Siume Raga 55 Allora Urra Signori Urra Assurdo Signori Assurdo Urra 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 Oltre Passa La porta E il portiere Poteva solo guardarla Il portiere Poteva solo Prendere Questa Dorata Palla Dai raga Dai Dai Ragazzi Sì Io no raga Non lo so Non lo so Non lo so Dai Dai raga Dai No No raga Sì No L'ho missata Come l'ho missata Com'è possibile raga Sì Dai raga Ah no Che allora Dai Dizze Ma che sfiga Raga 9 all'ora Dizze Più lenta Una palla del genere A 9 all'ora Raga A 9 all'ora Raga Fra un minuto e 14 Finisce la partita Porca miseria Di una Porca miseria Porca miseria Porca miseria Porca miseria No raga No raga Non ci credo No 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 Nono no Nono no 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 50 secondi raga, raga, io esplodo! Raga devo resistere! 4, 3, 8, GRANDI!!! Zappala! 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 Zappala la vigna! SIIIIIIII!! SENTINEL! sfaccettato blu cielo pure colorato raga perchè si perchè abbiamo voglia di metterlo colorevo ok prossima allora prossima partita che macchina si va bene è sempre questa aspettate raga aspettate raga no 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 allora raga fatemi vedere un attimo una cosa al volo per favore vai raga duello uno contro uno uno contro uno uno contro uno vediamo raga se intanto il video che ho fatto è arrivato vediamo vediamo un po vediamo un po raga vediamo un po no raga non è ancora venuto il video il video che ho fatto raga non è ancora venuto però vabbè eeeh 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 eh però non si vede molto no raga no raga raga se vi sentite che dicevo non si vede molto non si vede molto il gol che farò che farò che farò oddio oddio io ve l'avevo detto che quel che quel non si vede molto era il gol infatti raga non si avevi visto molto perché perché in tutto era tipo solamente piano che non non si avevi visto oddio raga che botta che botta signori che botta che botta fra botta che botta fra botta che botta che botta fra botta che gol mari se stai guardando questo video ciao mariangela maestro minore del mondo ma mari se lo dedico mari 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 mariangela ciao ciao mariangela domani per storia te lo dico sono pronto per l'interrogazione quindi mi raccomando se tu mi permetti vorrei essere interrogata se permetti picchio questa persona perché vanno a spodere perché lui non solo mi ha spodere ma lui è solo uscito con il tricollo mi ha preso ha preso la palla ma neanche con la con la molecola me l'ha preso oh che botta fra botta oh che botta fra botta fra botta ma che botta che botta bravo bravo che sfiorata sfiorone sfioratorio sfiora tutto che sfiorata sfiora tutto dai toccala toccala su perché non hai perché non accetta niente eh la miseria questo qua raga però è una spinta questa è strattonata si 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 segnava raga segnava ve lo dico io segnava che sfiorano Oh, io... devo credermi che dovete me la ricordare Oddio! Mi sento in corso di aver segnato Mi sento in colpa di aver segnato Poverino, questo qua non ha capito niente Non l'ha parato Ma che cosa stai dicendo, Elo? Questo qua davvero gioca con polvito Ma almeno gioca con una persona normale Ehi, guarda che lui gioca con me, eh Guarda che gioca con te, Edo Non gioca col vento Guarda che sei 3 a 1 Guarda che ti regola Adesso Un bambino qualunque No, no, no No, 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 ti prego, ti prego I rimpalli così no Cosa credi di fare, amico mio? Vabbè, altro gol Altro gol! Io l'ho detto che era un altro gol Facciamo sattinare Perché abbiamo vinto Mario... Mario... Mario mi hai lo vinto Raga, sto dicendo Mairo Mairo a socare No, ragu, non farò esplodere Ti prego Ti prego Non mi punire 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 Amico Non mi punire Non... Ho, ho, ho Que incredibile Se tu! Ah te scopeto Questo mi è trovato con una macchina No, no raga non deve cadere Raga 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 Ti prego non farò cadere amico 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 non farò cadere Amico, no amico, no amico Va bene, va bene, va bene Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ragazzi Che devo dire Questo penso splendido video Finisce qua ragazzi Se vi è piaciuto mettete un like come al solito Iscrivetevi al canale Spero che lo facciate in ogni mio video E ragazzi A noi Vi saluto con questo inno del giocatore Firework ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Bella raga Iscrivetevi e lasciate like Ciao